Prima di tutto voglio ringraziare l'organizzatore per invitarmi, sono molto felice di essere qui, ho davvero piaciuto questa conferenza e ringrazio di essere qui per questa sessione. Sono molto felice di presentare per la prima volta questo paper, titolo Facing Displacement and the Global Pandemic Evidence from a Fragile State, quindi è un titolo molto complicato, con Francesco Fasani, Valerio Leone Sciabolazza e Vasco Molini. Quindi ciò che facciamo in questo paper è essenzialmente cercare di capire un po' più i effetti della pandemia Covid in Libia. Il nostro tema è cercare di capire un po' più i effetti della pandemia in un paese che ha già molti altri problemi, e in particolare abbiamo cercato di imparare qualcosa di più su come la pandemia ha impattato le persone internazionalmente in questo paese, che hanno stato affettato dal conflitto almeno dal 2011. Ciò che facciamo in questa analizzazione è combinare le dati da un survey che abbiamo fatto in Libia nel 2021 e abbiamo combinato questo con la data geolocalizzata sul conflitto e qualche proxia di attività economica. Ciò che vi racconto un po' più sui dati. Ma potete anticipare il risultato con un'analizzazione molto, direttamente, di un'analizzazione molto straordinaria. Abbiamo due risultati principali. Il primo è che nei nostri dati le IDPs non rappresentano le incidenze di Covid-19. Questo è il primo risultato che abbiamo. Abbiamo essenzialmente cercato di imparare più sulle IDPs e del risultato del Covid-19. Non c'è una differenza con la popolazione della popolazione. Ma, al stesso tempo, rappresentano un risultato più negativo economico e il risultato del risultato. Questo è stato un puzzle che abbiamo cercato di capire, quindi abbiamo proposto due possibili explizioni di come questo succede. Il primo risultato è che c'è una storia sulla fragilità economica dei IDPs. Quindi, essenzialmente, cominciano da un status economico semplice, che rende loro più vulnerabili a qualsiasi tipo di shock economico, anche per la pandemia. Quindi, stanno già sul limite della linea di poverà o, in generale, delle condizioni di difficoltà economiche. La pandemia ha fatto loro farlo ancora peggio in questa dimensione. La storia è un'altra storia sul risultato di risultato di risultato di risultato. Quindi, anche se non rappresentano le risultato di risultato di risultato di risultato, sono più probabilmente di chiedere risultato in caso di necessità. E questa è una storia che suggeriamo la discriminazione. Abbiamo dei dati che suggerisce che la razza di risultato non si vanno al hospital o al risultato di risultato di risultato di risultato di risultato di risultato di risultato. Questo è il paper in una slide. Ora, vi darò un po' più di dettaglio di questo. Il contatto è Libia, come dicevole, tutti conoscono che il regime Gaddafi nel 2011 ma la situazione è stata molto complicata. Ci sono stati politiche instabilità, la violenza di diversi tipi in questo paese. per il nostro paper, la cosa più relevante è che ogni fase di questo conflitto risulta in un'increzzata di risultato di risultati di risultati di risultati di risultati di risultati di risultati. Quindi, c'è il principio del conflitto in cui abbiamo avuto più o meno 10% della popolazione disperato nel paese. ma anche la seconda fase del conflitto, che è in 2014, ha avuto un grande effetto per il nostro paese. Questa è la situazione in cui la pandemia di Covid ha esplodato anche in Libia. e molte difficoltà che avevano già caratterizzato l'economia e la situazione sociale sono ancora peggiori anche perché ovviamente il sistema sanitario non era pronto a capire con questo nuovo risultato quindi il sistema sanitario sanitario era in grado di colapso quali sono i dati che usiamo? il problema è che non ci sono i dati disponibili nel contatto di Libia questo non è un'esagerazione, è una realtà quindi i dati sono extremamente limitati considero che il ultimo risultato è stato in 2007 e i dati non sono stati collettati da 2011 quindi non c'è informazione sulle distribuzione della popolazione non parla di altre misure di attività economica e così via e anche le statistiche che sono prodotti a volte durante questa decada sono molto irreliabili i dati su IDP sono stati collettati recentemente da IOM e REACH e vi dirò qualcosa di più su questo in un momento ma essenzialmente la situazione è stata una in cui abbiamo bisogno di combattere con i dati che sono perdita quindi ci siamo stati aiutati a partecipare il World Bank, il WFP e il Libio di Bureo di Statistica per disegnare un survey che si tratta di condizionare nel mondo e quindi era in april-mai 2021 e abbiamo inserito in questo survey che era disegnato per collettare informazioni per la sicurezza e abbiamo presentato una questione sulle migrazione, istituzione, displacione e l'exposione al conflitto è stata ovviamente fondamentale e è stata fatta con una selezione randomizzata di numeri e in realtà siamo dicendo che siamo abbastanza felici con i risultati in termini di risposta ricordate che non sappiamo la popolazione quindi abbiamo quasi un'idea di cosa sta succedendo nel mondo ma lo che sappiamo è più o meno l'estimazione della popolazione quindi questa è la prima colonna e poi abbiamo la proporzione per ogni magnifica, queste sono le province del paese e la ultima colonna è più o meno il percentaggio del nostro sample dei rispondenti alla colonna, che è semplicemente simile quindi siamo abbastanza sorpresi considerate che non possiamo controllare questo a parte di un altro che vi mostrerò in un secondo ma questo è solo per dire che dato che il punto di partenza era la proporzione del sample è semplicemente simile e abbiamo anche le rispondenti di tutte le mantiche in Libia solo per dare un'idea del paese sorry questa è la Libia considerate che la parte inferiore è completamente deserta quindi la maggior parte della popolazione vive nella parte dove c'è la mediterranea e questi sono i numeri dei rispondenti alla nostra storia come potete vedere come abbiamo aspettato perché Frippoli, Frippoli, Benghazi e Misurata hanno la maggior parte di rispondenti come sappiamo che queste sono le regioni più popolazioni del paese quindi abbiamo aggiunto a questo survey informazioni sui eventi conflitti utilizzando l'ACLED e anche alcune proxie per attività economica utilizzando le luci perché non ci sono altre informazioni sull'attività economica del paese del paese quindi alla fine abbiamo un esempio di 2,257 rispondenti 30% sono le donne e 42% hanno un'educazione che non è sorprendente anche nel contatto di Libia e in generale i regioni Nord africani dove l'educazione è molto alta e abbiamo trovato anche 9% delle persone che riportano il caso del Covid nel paese e anche abbiamo collato informazioni sulle situazioni economiche quindi 55% del paese avevano mangiamento e la famiglia avevano una nuova in tre mesi prima delle interviste quindi quali sono i nostri IDP quindi abbiamo trovato tra questi randommi che chiamiamo il telefono abbiamo trovato che 7% sono stati dei IDP che è importante per noi abbiamo trovato che non sono diversi dei non disperimenti in termini di educazione abbiamo trovato che il stato socio-economico non è sorprendente ma abbiamo l'impressione che non c'era una differenza in l'incidenza del Covid ma rappresentano negativo economico e quasi doppia l'incidenza e abbiamo trovato che vivono in locali che non hanno più economiche che aspettiamo che sono meno sono sono meno violente in dove gli individui vivono e controlli per la provincia conflitti e controlli gli altri risultati, abbiamo trovato solo che le risultate croniche sono significativamente per il displazio, ma le due risultati mentali e gli altri risultati infatti non sono significativi, quindi possiamo dire che non c'è una grande differenza in termini di Covid o di altre cose che possono essere associati con Covid, come altre risultati infatti infatti, ma al stesso tempo come ho anticipato a te, c'è un effetto forte e molto chiaro negativo effetto economico e la salute, quindi la specifizazione è la stessa, abbiamo solo un effetto fixato e poi abbiamo solo un controllo per l'economia e il conflitto e poi abbiamo qualche altro controllo per la presenza nella famiglia di qualcuno che ha Covid e le cose non cambiano, quindi abbiamo sempre trovato che i displazionati persone stanno rappresentando più negativi impacti economici e anche negativi come potete vedere in questa parte con l'economica storia, troviamo anche che il conflitto dell'economia è correlato negativamente con l'economia, che è un effetto negativo e l'economia è relato negativamente con l'impacto economico di Covid, quindi questi sono risultati confortanti, dato che abbiamo iniziato da sapere nulla sui dati, ogni volta che troviamo qualcosa che è in linea con l'economia, siamo confortati da questo, ma è un po' strano di lavorare senza riferimento con altri controlli sui dati, comunque abbiamo questi risultati che magari sono comunque puzzlanti in qualche senso, perché essenzialmente abbiamo visto che abbiamo la stessa probabilità di ottenere il Covid, ma molto peggio un impatto riportato, quindi abbiamo cercato di capire due storie possibili di questo, la prima cosa è la fragilità economica, quindi come in altri paesi del mondo, il Covid ha un impatto molto buon per l'economia, per diversi ragazzi, i prezzi aumentarono, però l'economia in generale, e quindi ciò che possiamo mostrare è che perché i IDPs hanno, come un punto di start, un punto di vista semplice di economica, che non displazionati, questo ha un grande impatto su loro, perché abbiamo mostrato che quando abbiamo visto la probabilità di incurare un nuovo dipendente nei ultimi tre mesi, questo è molto, molto forte e molto persistente sulle diverse specifiche. Quindi, per farvi la seconda storia, che è un po' più sorprendente, abbiamo informazioni sulle decisioni per chiedere il cuore e dove andare quando chiedere il cuore, e abbiamo trovato che i IDPs sono meno probabilmente chiedere il cuore in paesi dove sapono, nella loro provincia, che ci sono altre persone che hanno chiedere il status di essere un IDP, quindi è come un effetto di dire che vivo in un paese dove vedo che i IDPs non sono molto benvenuti, e questo mi permette di andare a cercare il cuore quando ho bisogno. Given il fatto che, come dicevamo, la probabilità di essere infatti è la stessa, ma sono meno probabilmente di essere curati, questo può raccontare perché rappresentano dei risultati più negativi del Covid-19 in termini di salute. Quindi, per fare la ultima slide. Abbiamo documentato, questa è la prima volta che ci sono data su IDPs in Libia e, in generale, uno dei piccoli di che si guardano l'impacto del Covid-19 sui gruppi marginalizzati in conflitti affettati. E ciò che vediamo è che non è solo un problema del effetto direttore del Covid che dovrebbe essere occupato nel designare delle politiche, ma anche il fatto che ci sono caratteristiche di IDPs che devono guidare le designare le politiche. In questo caso, per esempio, nel caso di Libia, di un caso di problematica, la fragilità economica che caratteristano le IDPs e anche la relazione tra le IDPs e la popolazione dei locali in termini di avere l'accepzione di loro come vivere in un paese e in un momento. Ok, grazie molto.